A parte gli scherzi benvenuti in questa nuova puntata ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro finalmente ritrovamento dei nostri poteri e anche loro aumentarli sinceramente il che beh è stato buono perché ci ha dato due potenziamenti non solo utili ma soprattutto che ci permettono di essere molto più efficienti il potere dell'armatura eccolo qua e il potere della lama che è un mischione fra gli artigli e il pugno martello perché tagliano ma sono forti quanto il pugno martello visto che rompono anche i carri armati va bene andiamo da Danacol la missione di oggi è la porta nel muro ciao Dana eh immagino perché questa scelta poi? allora avviamo lo scatto al massimo mi sa di noi non abbiamo più punti per farlo allora fermi tutti oh merda dove sta andando dove va dove va? pazzo bastardo fermati maledetto allora cambiamoci anche forma così nel caso i soldati non si fanno neanche domande stai perdendo terreno è grazie al cazzo non sapevo dove stesse andando il tizio eccomi non so se devo colpirlo se devo solo seguirlo preso tra l'altro fare il calcio è il modo più più veloce per recuperarlo allora fermi tutti fatemi vedere una cosa ok ci servono 100.000 punti tutti nostri dai perfetto così si che è correre preso in pieno aia eh nastardo allora no penso che comunque sia solo insegui l'obiettivo e basta eh stai buono un po' si 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 è cattivo grande grosso lui bravo orsacchiotto levatevi tutti dalle palle devo eseguire Danacol arrivo sto arrivando e smettila di saltare a destra e a sinistra bastardo non tirami giù da questa cosa eh checkpoint raggiunto dai fermo lì oh ottimo dentro l'alveare ma mi sa che è stata la tizia dell'altra volta la tizia dell'altra volta ordinare gli schifidi di di rapire nostra sorella eh eh Alex aiutami un attimo anche mica è semplice dov'è 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 andato arrivo le missioni di inseguimento che palle o meglio che palle quando devi solo devi solo inseguire e basta è successo che palle quando devi solo inseguire anche se lo raggiungi non cambia nulla perché magari se è raggiungi l'obiettivo è un conto ma se è solo inseguilo da punto a punto b li dovete tutti levare dalle palle la cosa bella è che essendo travestito da soldato non gli ne frega niente a nessuno aspetta e niente il tizio lì ormai è andato non fa niente volevo prendere il tizio della trama degli intrighi ma no 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 che è successo ok ecco ora richiama i rinforzi siamo circondati da stronzi meglio non far sapere la nostra forma reale ora finché riusciamo a tenere nascosta la forma è un bene ok dai oh nonostante tutto stiamo vincendo a calce pugne e la cosa buona è che nessuno sospetta nulla ecco fatto madonna mia mi sfondo a calci nel culo ecco fatto così si lavora aia dove sei arrivato e salva dana cos'è di nuovo devo inseguirlo la cosa la cosa buona è che finché aia no di nuovo dicevo la cosa buona era che finché ero travestito da soldato non potevano neanche beccarmi quanto è durata sta missione 5 minuti beh che dire non è andata nel migliore dei modi ho perso mia sorella dovevo ritrovarla ovviamente disinfecti sono come animali ma c'è qualcosa più come una mano guida guida la mia La Hivemine è stata la mia prima volta. Era una scuola per trovare Dana. E ho pensato che con la consumazione infettive, potrei seguire la link e questo potrebbe essere l'unica che prende. Ma poi ho ho capito. Ho ho i miei. Ho 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 Blackwatch corner. Ho 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 il suo canzio. Ho potuto mettere un stop per questo, proprio alla base, se potessi arrivare al giro. Quindi ho trovato Dana. Ubrero Green. E' il percorso dell'antieroe. Eccetto me. Però non vedo l'ora di ricordarmi chi è il tizio con cui sta parlando. Sta parlando con qualcuno della Blackwatch. Però... 68%. Eh eh. Beh che dire. Danacol è stata rapita. Noi però siamo guariti. Beh. Diciamo che... Le possibilità sono ancora a nostro favore. Quindi signori. Vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come avete seguito. Se avete dimmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.